In arrivo le telecamere di sicurezza contro il fenomeno del sacchetto selvaggio nell'area del Pozzo Lioi a Terlizzi. Dopo che i volontari di un'associazione hanno rimosso i rifiuti urbani, l'azienda è caricata dal comune, ha eliminato i rifiuti speciali. Gianni Matera. La notizia della venuta bonifica dell'area del Pozzo Lioi all'interno della lama dalla quale prende il nome è stata accolta come una vittoria dall'associazione Puliamo Terlizzi, impegnata nella rimozione dei rifiuti abbandonati in quell'area da anni. Da quando è nata la nostra associazione? Dal 2013. Qui abbiamo condotto molti interventi di pulizia perché l'azione dei volontari molto generosa purtroppo viene ogni volta vanificata da cittadini incivili. Voi vi siete occupati dei rifiuti urbani ma c'era ben altro? Sì, qui c'erano rifiuti urbani ma c'erano anche tanti tanti rifiuti speciali pericolosi, c'erano manufatti in cemento amianto, quintali di manufatti in amianto. Puliamo Terlizzi ricorda i due bandi del comune finanziati dalla regione Puglia e dalla città metropolitana di Bari destinati a bonificare il sito. Sì, si spera che venga mantenuto, si spera che funzionino le telecamere di videosorveglianza che sono in questo momento in fase di installazione e che il comando della Polizia Municipale effettui maggiori controlli non solo qui ma in tanti altri luoghi del nostro comune. L'associazione auspica che altri due siti possano essere bonificati grazie ai fondi di un bando regionale. Per venerdì abbiamo in programma un intervento di pulizia, quindi di risanamento, della via Pietraiana nei pressi verso Bitonto, nei pressi della Villa Ilderis. È una zona che è molto frequentata da pellegrini di tutta Italia.